Ciao, sono Gabriele Cerri e sono il membro più giovane del Consiglio d'Amministrazione. Il 13 dicembre alle ore 17 ci sarà l'Assemblea dei Socii e quest'anno prevede un'apertura speciale con il dottor Roberto Grasso che ci illustrerà quali saranno le modifiche dei rapporti tra impresa e banca nell'anno 2018, illustrerà anche le normative che entreranno in vigore e quali rapporti cambieranno col tempo. Noi invece vorremmo invitarti soprattutto per farti sapere quali sono le nostre idee che abbiamo in mente e quali sono quelle che vorremmo mettere in atto e sicuramente te sei importante in questo ruolo perché sei membro del Consorzio e noi crediamo in te e vorrei che tu credessi in noi perché noi ci teniamo a fare questi progetti e non mi resta che dirti ti aspetto e ci vediamo all'Assemblea. Grazie. 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 Grazie.